Chi dice che la lirica debba essere per forza noiosa? Provatela a vivere per una sera sotto un cielo di stelle, con un attore poliedrico che racconta la figura di Violetta, interprete principale della traviata, e con una visione diversa da quella dell'opera pura, ed il gioco diventa magia. L'occasione è quella della Bitonto Opera Festival, il locus indicato è quella della Fondazione Giovanni XXIII a Bitonto, sabato 29 luglio, e l'attore in questione è Antonio Stornaiolo. Il tutto come preludio alla messa in scena della grande opera del Maestro Verdi, il 6 di agosto. 90 minuti di vero spettacolo raccontati dall'attore barese, che ha raccolto una piccola sfida, coinvolgendo anche il pubblico presente. Racconto il personaggio di Violetta, che è la protagonista della traviata che metterà in scena l'opera Festival di Bitonto il 6 agosto. In preparazione di questa messa in scena abbiamo organizzato questa conversazione spettacolo per capirci un po' di più. Lo scopo qual è? Uno, dimostrare che il melodramma italiano è unico al mondo. Due, dimostrare la genia di Giuseppe Verdi. Tre, soprattutto, che non è vero che l'opera lirica è pallosa, perché invece può essere molto non divertente, ma avvincente e distruttiva. Oggi Violetta, lei si chiama Violetta Valerina, vogliamo chiamare Viola Valerio, sarebbe una ragazza di facili costumi, che magari su TikTok oppure su, come si chiama quella cosa che uno si mette più degli danni soldi, che su OnlyFans fa robe di quel genere. Però poi un giorno incontra uno di cui si innamora, questo è figlio di un ricco palazzinaro pugliese, e il padre poi va da lei e dice, guarda, tu non te lo puoi sposare perché tu sei una così. E lei dice, ma guarda che io non lo voglio sposare perché voglio i tuoi soldi, lo voglio sposare perché lo amo. Il padre dice, per piacere non te lo sposare, lei accetta, non se lo sposa. Lui ci rimane male perché pensa che lei lo faccia per mettersi con un altro, le sbatte in faccia i soldi dicendo, tu solo OnlyFans puoi fare, quando invece lei lo ama perdutamente. Poi il padre gli dice, vedi che gliel'ho detto io, che ti deve lasciare, lei non sta con nessuno. Allora lui torna indietro, dice, io ti amerò per tutta la vita, ma quell'amore di Tisi. A margine di questo, ma non meno importante, le parole del direttore artistico dell'Ebitonto Opera Festival, che ha voluto coniugare la corposità di un'opera lirica senza però stancare gli spettatori, che al contrario si sono sentiti parte integrante della stessa, ma che soprattutto hanno vissuto una diversa concezione dell'opera stessa. Questa sera è nata, intanto devo dire, da queste idee, che potremmo usare il termine folcloristiche che ha Peppino, che hanno sempre lo scopo di mirare alla finalità importante di come coinvolgere un pubblico nuovo per l'opera. Col terrore sempre che il nostro pubblico sia sempre limitato ad appassionati, che col tempo vanno perduti per ragioni così, diciamo, di passare naturale del tempo. Quindi questo mischiare vari generi, personalità che arrivano da altri campi del teatro e che sono comunque appassionate d'opera e che ne vogliono parlare in una chiave un po' diversa, ci ha spinto a ideare questo tipo di serata.